Partiti! 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 Ercolanus, Tiranitar, Passa Ercolanus davanti a Tiranitar, Nuracale e Next Way. In vantaggio Ercolanus davanti a Tiranitar, Next Way, Backhunting e Nuracale. Il nostro Gabriele Candi ha portato fortuna a Simone Bocci con il suo Ercolanus che è andato a vincere adesso tutti quanti insieme. Caro Rolando, caro Stefano, dobbiamo ricostruire i primi cinque al traguardo. La certezza è numero sette Ercolanus, poi al secondo posto il cavallo che Stefano ci aveva suggerito di considerare, ovvero Tiranitar, il numero undici, bravo, terzo il numero dieci, Next Way, quarto il favorito della corsa il numero cinque, Nuracale e quinto Backhunting sei. Sette, undici, dieci, cinque, sei dovrebbe essere. Esatto, e da Capannella l'appuntamento sarà per domenica, ma domenica è il giorno delle Oaks del Vittadini. A proposito Mario, le Oaks chi le vince? Che domanda? C'è una cavalla FB? Vabbè, però diciamo, lei ha il final score, ha conto? C'è anche So Manishot che ha la sua buona possibilità, parlavo con Dario Vargio che mi ha detto stia attento che la mia può fare anche i 2002, eh? Anche se è una figlia di Dutch Art. Vale a dire, Lady Dutch. Esatto. Bene, grazie e buona serata a tutti. A tutti e per la collaborazione. A presto.